buon appetito tutto ok? viaggio comodo? col pullman? con le macchine state a posta cesi alloggiati, giusto? no, sì al giardino esatto sì no, no, no c'è una carta ho fatto caldo per gli atleti chi ha giocato e chi deve iniziare adesso alle ore 15 fatto caldo offerto dall'organizzazione l'argo grazie a voi grazie 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 grazie